ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato al nuovo longin heritage conquest finalmente è arrivato nei negozi il nuovo longin heritage conquest che va a sostituire quello da 38 mm con il datario ad ore 12 non so se vi ricordate che è andato per la maggiore finiti tutti finiti quelli adesso è arrivato questo qua nuovo da 38 mm ma c'è anche la versione da 40 e già che ci siamo c'è anche la versione con quadrante nero io ho scelto quella con il quadrante argente anche se preferisco forse forse quella nera però secondo me quello con il quadrante chiaro rappresenta maggiormente la storicità di questo modello di questa famiglia di conquest no siamo abituati a vederli negli anni 50 60 con questo quadrante chiaro tra l'altro occorre anche dire che la famiglia conquest è stata la prima nel 1954 ad avere un nome nel senso che prima del 54 tutti i longin gli orologi uscivano con un numero di referenza senza nome non esisteva un nome di famiglia avevano semplicemente questa referenza che poi nessuno utilizzava ma magari li chiamavano per il calibro che incassava ma nemmeno perché a quel tempo non c'era tutta questa passione verso i calibri erano semplicemente orologi voglio questo non c'è in questa referenza qua questo qua questo questo 1954 primo anno nel quale la famiglia conquest nasce poi se non sbaglio nel 57 seguì la flagship che è tuttora catalogo e poi dopo da lì tutte le altre famiglie modelli jambori che dir si voglia un sacco di altri di altri modelli però 54 conquest ed è per questo che crea un pochino quel no quella quell'alone di di storia di tradizione tra l'altro oggi ci sono anche i conquest senza scritto heritage che sono anche a un aspetto più moderno sportivo più contemporaneo e parallelamente esiste questa famiglia qua heritage che riprende pari pari quelli del passato su questo non occorre scandalizzarci perché perché la famiglia conquest nell'arco del tempo nell'arco dei decenni ha cambiato molto molto aspetto non è che è sempre rimasta in questo modo quindi ha senso che oggi siano anche divisi in due modelli differenti ad esempio il mio orologio del giorno l'ho indossato apposta e il mio long in conquest del 1975 con il calibro 72 14 guardate qua come brutto è un bel cioccolatone quadrante tanto brutto quanto interessante perché il calibro 72 14 è quello a transistor e c'è il bilanciere ancora meccanico ma il circuito elettronico quindi a batteria questo orologio e l'ho preso apposta per questo calibro perché nella mia collezione un orologio del 75 con un calibro elettronico ha il senso nella collezione di long in te do dire quindi questo qua quadrato è un conquest esattamente della famiglia conquest quindi per ribadire il concetto che non dobbiamo scandalizzarci sul fatto che oggi ci sia la versione moderna sportiva quella tradizionale sono due due orologi differenti ma facenti parte della stessa famiglia chiaramente l'orologio mi è stato messo a disposizione dell'amico giacomo titolare della gioielleria pasquale domenici di viareggio che a parte l'ufficiale del canale che mi mette a disposizione gli orologi e che a voi offre un trattamento di favore basta che chiamate sono concessionari del marchio e zac vi fanno un'offerta migliore possibile detto questo abbiamo parlato anche troppo della famiglia conquest di questo bello orologio non mi resta che girare quindi la camera e dargli un'occhiata no quindi io vi aspetto qui come al solito per le considerazioni personali partiamo come usualmente accade rilevando le misurazioni sul campo diametro cassa 37.9 mm spessore 11.4 ingombro trasversale al polso 44.9 e interasse ansa da 19 mm misure che nell'ambito moderno possono essere considerate ideali per un orologio classico elegante che fanno modo di restituirci un aspetto al polso perfettamente in linea con le aspettative dello stile raffinato compatto e finemente garbato un orologio che perpetua la tradizione della famiglia conquest andando a replicare quelle linee gentili che da sempre la contraddistinguono anse corte sfaccettate design cassa proporzionato e sottile e finitura generale ovviamente lucida non vi è spazio per spazzolature di sorta neppure in quell'ampio bisello presente sulle anse diventa una terza superficie e mantiene la lucidatura a specchio qui tutto è pensato per ricondurci a quella sensazione di eleganza mista glamour che il conquest vuole rappresentare e di cui vuole essere il portabandiera lunetta compresa abbraccia completamente tutta la larghezza della cassa quasi a modi chiusura e lo vince chiaramente da quella separazione che corre lungo tutto il perimetro senza formare alcuno scalino un cilindro e il suo coperchio lo si nota chiaramente osservandolo di profilo lunetta carur e fondello risultano particolarmente contenuti e ottimamente amalgamati quasi a formare un corpo unico mentre le anse tendono a proiettarsi verso il cinturino senza alcuna curvatura sembrano quasi voler essere il naturale prolungamento del corpo cassa in tutto questo il parametro dello spessore ridotto è lì a dimostrare che la carta è vincente nota a margine le specifiche della cassa riportano 10.8 millimetri di spessore mentre io ho misurato 11.4 il responsabile è quel piccolo medaglione sporgente sul fondello probabilmente la casa non lo ha considerato in quanto vada a affogarsi sul polso senza contribuire alla resa visiva laterale la raffigurazione presente riproduce un pesce questa era la tipica indicazione negli anni 50 che l'orologio in questione era ermetico e resistente all'acqua secondo i parametri in voga a quel tempo naturalmente oggi parliamo di 50 metri di resistenza un dato più che accettabile per la tipologia e considerando che si tratta di un fondello avvitato alla cassa con tutti i crismi di impermeabilità che questa soluzione comporta ma torniamo alla parte superiore perché non posso poi esimermi in qualità di estimatore dei longin vintage dal dare uno sguardo alla corona di carica a pressione questa riprende quelle a cilindro con cupola in voga negli anni 50 si alternavano con quelle più sottili dette a cappello di prete personalmente la ritengo una scelta stilistica consona alla miss dell'orologio occorre poi sottolineare che ci troviamo di fronte ad un vetro zaffero con doppio trattamento antiriflesso piuttosto sporgente ma alquanto poco convesso al centro e questo unisce la piacevole distorsione periferica alla perfetta resa centrale e lo si evince chiaramente pur essendo un quadrante bianco appare nettamente leggibile ed ogni elemento presente riesce ad essere ben distinguibile attenzione si tratta di un bianco ghiaccio piuttosto freddo alla vista non ci appare in quel modo semplicemente perché viene scaldato dai riflessi degli accenti dorati un mix che viene poi ulteriormente addolcito dai riflessi della finitura raggi di sole del fondo una serie di striature leggere che partono dal centro per dissolversi verso il bordo tutto ciò che è presente sul quadrante è perfettamente in linea con la tradizione di longin indici sfaccettati e applicati in rilievo e l'assenza della finestra data li rende speculari tra loro sfere dauphin eleganti ed austere allo stesso tempo per non parlare della clessidra lata che si eleva dal fondo qui la troviamo in metallo dorato ed applicata al quadrante nella migliore tradizione degli orologi di pregio della casa insomma un insieme di elementi che rappresenta per chi ama gli orologi tradizionali naturalmente il non plus ultra delle possibilità tradizionale sì ma con un tocco di contemporaneità il super luminova è infatti presente sia sulle sfere che in corrispondenza degli indici all'interno eccezione fatta per gli indici ai quarti che se lo ritrovano all'esterno questo crea un curioso effetto geometrico che in assenza di luce va a disegnare una sagoma rombo quanto insolita sono rimasto spiazzato sorpreso ma anche compiaciuto in fin dei conti l'orario si legge e un tocco estroso ci sta non ho ancora menzionato il movimento si tratta del classico l888 di longin calibro che muove la maggior parte delle ultime produzioni della casa il suo lontano antenato eletta 28 92 che in questa versione a spirale libera in silicio viene montato in esclusiva da longin si tratta di un ottimo meccanismo sottile ben regolato e con 72 ore di riserva di carica attenzione che nel sito ufficiale di longin viene riportato il dato 28.800 alternanze orarie ma da sempre questo calibro viaggia 25.200 come controprova si vede infatti che la sfera secondi fa 7 micro scatti in un secondo ossia 25.200 in un'ora non rimane che disquisire a riguardo del cinturino elemento che io considero sempre un poco marginale in quanto è difficile che possa fare la differenza tra il decidere o meno un acquisto in ogni caso ci troviamo di fronte ad una qualità elevata morbido e flessibile con la parte interna che vede l'applicazione di un sottilissimo strato nero presumo il suo scopo sia quello di aumentare la resistenza all'usura della parte a contatto con il polso è presente la classica fibia ed ardiglione scelta che condivido in quanto una deployant non sarebbe stata in linea con lo spirito dell'orologio ultima annotazione attenzione al passo da 19 mm misura dispari che limita la possibilità di utilizzare cinturini aftermarket possiamo tornare in presa diretta per le considerazioni finali punti deboli oggettivi sinceramente non ce ne sono faccio fatica a trovare qualche qualche mancanza ecco invece potrei fare un discorso sulla mancanza generale di long jean nel senso che io auspicherei una linea unica per tutti gli orologi nel senso che calibro l888 ok è quello maggiormente utilizzato da tutti i modelli di long jean attualmente no però poi viene declinato in diverse configurazioni cioè c'è quello certificato costo quello certificato cronometro da timelab quello certificato cronometro da altri laboratori e quelli non certificati cronometro ora sarebbe auspicabile una razionalizzazione di tutta questa linea cioè facciamo in modo che i calibri long jean siano tutti certificati cronometro dallo stesso laboratorio in modo da uniformare la situazione sai che compri un long jean e vai e compri il long jean che ha quel calibro lì certificato cronometro da tal laboratorio questo qua poi anche un male un po comune ad altri ad esempio mi viene in mente tudor fa 1 2 metas due coschi altri che non hanno coschi insomma anche lì c'è un po di confusione prendere esempio prendere esempio qua mi spiace dirlo da rolex tutti superlative cronometer no e poi dopo di nuovo regolati e controllati una volta incassati o meta o omega che li fa tutti metas ecco queste due case vanno per la loro strada dritti tutti uguali le certificazioni dei calibri altre case invece si perdono un po in strada a destra a sinistra e non sai mai se dentro al tuo orologio c'è qualcosa di particolare o no ma anche la scritta antimagnetic che è per esempio sul legend diver che ho anche su questo c'è la scritta antimagnetic altre volte no non si capisce bene c'è una maggiore uniformità critica costruttiva generale alonjine che è un marchio che io amo che io colleziono sia vintage che nei moderni anzi scape da lì proprio mi piacciono però se c'è da fare una critichina la facciamo punti positivi a bel 38 mm anche se c'è da 40 un bel 38 mm che risponde ai canoni classici dell'orologio elegante fondello chiuso niente data leggibilità buona pur essendo un un quadrante chiaro è il classico orologio l'orologio da tramandare da padre figlio quello che regaleresti ha in un'occasione importante la laurea di un di un figlio magari un long in conquest di questo tipo qua che magari potrebbe anche non apprezzare subito su due piedi in quanto magari un giovane questo questo stile questo design riesce poco ad apprezzarlo ma se lo mette nel cassetto poi dopo fra 10 15 20 anni lo apprezzerà come non mai a differenza se gli regali un orologio che va di moda adesso bello magari grande pacchiano dai indossalo perché poi dopo va nel dimenticatoio sì questo me lo hanno regalato per la laurea ma non lo indosso mai meglio non indossarlo adesso e riscoprirlo poi che indossarlo ora un anno due anni poi passa di moda e te lo dimentichi poi detto questo io gli ho messo sul piatto tutti gli ingredienti come al solito che piace che non piaccia sono altri discorsi ognuno deve fare le proprie scelte spendere i propri soldi come meglio crede boh mi sembra di aver detto tutto vi ringrazio per essere arrivati fino qua e vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love ciao 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 ciao